Buonasera e bentrovati nella terza edizione del Tg6 in apertura parliamo del vertice che si è tenuto presso l'ufficio della ricostruzione tra sindaci e parlamentari abruzzesi. I sindaci sono quelli del cratere sismico e si è parlato tra le altre cose delle incertezze per gli emendamenti rimasti al palo che sono necessari proprio per i comuni che fanno parte del cratere. Il servizio di Germana Adorazio. I fondi per salvare i bilanci dei comuni del cratere del sisma del 2009 per rinnovare i contratti deprecari in scadenza saranno nel prossimo decreto mille proroghe. Più difficile trovare invece fondi strutturali per opere come i nuovi sottoservizi nei vari paesi ma i 6 miliardi di euro stanziati nel 2014 non sono in pericolo. Queste le principali novità emerse nel vertice tra i sindaci del cratere riuniti nel tavolo di coordinamento e alcuni dei parlamentari abruzzesi convocati nella sede dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei 56 territori colpiti dal sisma del 2009. Lavorare sul mille proroghe per inserire alcuni degli emendamenti necessari alla ricostruzione del cratere 2009. Quindi sicuramente la norma sui bilanci, qui siamo con i sindaci del cratere ma c'è anche il comune dell'Aquila, occorrono 17 milioni, 15 più 2 per sopperire alle minori entrate e le maggiori spese. Per questo emendamento io sto verificando e lo verificheremo appunto con la ragioneria generale e con il governo l'opportunità di inserirlo nel mille proroghe. Lo stesso potremo fare per alcune delle proroghe indispensabili dei precari, in particolare dei co-co-co. E sarà una sospensione momentanea fino a quando non avremo una norma che ci permetterà il proseguo dei lavori. Quanti sono gli aggregati da aggredire ancora? Beh guardi, noi abbiamo, il numero degli aggregati non li conosco, però abbiamo circa un 600 pratiche depositate all'interno del nostro comune, che dovranno essere tutte istruite. L'ordine degli ingegneri di Teramo intende mettere in guardia la cittadinanza dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di procedure irregolari da parte di professionisti. Sembrerebbe infatti che degli ingegneri si siano presentati subito dopo il terremoto per sopralloghi non autorizzati, fornendo prestazioni gratuite a fronte di successivi incarichi tecnici. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. L'ordine degli ingegneri di Teramo scende in campo ufficialmente per mettere in guardia i cittadini su comportamenti poco deontologici e penalmente perseguibili riscontrati in questi giorni attribuibili ad alcuni professionisti. Sono stati infatti segnalati all'ordine almeno 5 ingegneri che si sarebbero presentati nel terramano come incaricati dal comune o dalla protezione civile per eseguire sopralluoghi a seguito degli eventi sismici di agosto e di ottobre, in poche parole, degli impostori. Un cittadino che ha dei danni a casa, quando si deve preoccupare nel momento in cui arriva un ingegnere e considerare un comportamento irregolare? Noi come ordine siamo deputati a verificare e controllare, appunto tale, con questa nota ci rivolgiamo alla società, quindi ai cittadini e a tale che possono chiedere all'ordine attraverso un indirizzo mail dedicato via telefono e capire atteggiamenti poco corretti, eticamente poco corretti e soprattutto non rispettosi delle norme in materia. Del tipo chi si presenta lì garantendo prestazioni gratuite o to cure dall'inizio per poi rivendicarle successivamente non è un comportamento previsto dalla norma, soprattutto in contrasto con i decreti attuativi che stanno per essere approvati perché l'ingegnere o il professionista in generale deve essere all'interno di una lista, di un elenco con delle capacità organizzative e professionali per poter dare risposte in tal senso, quindi va preso da quella lista e quindi questo non è corretto, non deve essere accettato, oppure si presentano per conto della professione civile per fare dei sopralluoghi, questo non è possibile. Oppure si presentano con una convenzione da firmare. Oppure si presentano con il foglio finale di una convenzione al momento che non esiste, perché è una vecchia convenzione facendo assumere responsabilità al cittadino, invitiamo i cittadini a segnalare questi comportamenti oppure si presentano in accoppiata con l'impresa, non è che l'impresa ha la rogna perché il rapporto progettuale-esecuzione è un fatto fondamentale di sinergia e di collaborazione per ottenere un ottimo lavoro finale, ma in questo momento l'attività professionale ha un ruolo l'attività di esecuzione ha un altro ruolo, ma oltretutto è vietato per norma perché il progettista o il direttore dei lavori non deve avere avuto rapporti con l'impresa esecutrice. L'ordine degli ingegneri di Teramo ricorda a tutti i cittadini che l'esecuzione di sopralluoghi è per regola preventivamente comunicata dagli organi competenti ed i tecnici incaricati devono avere il tesserino di riconoscimento. Ancora una donna vittima di violenza in famiglia dopo l'uccisione di Jennifer Sterlecchini due settimane fa e l'arresto di un giovane a Pescara domenica scorsa che era entrato con la forza nella casa della ex minacciandola. L'ultimo episodio in ordine di tempo è accaduto ieri sera a Cepagatti dopo un 36enne in preda ai fumi dell'alcol dopo una lite scoppiata per futili motivi ha aggredito prima la moglie e poi altri familiari. Providenziale è stato il pronto intervento dei carabinieri della locale stazione del norm della compagnia di Pescara che hanno arrestato l'uomo con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo in evidente stato di ubriachezza ha riversato la sua rabbia contro i militari invitandoli ad andare via senza tanti complimenti. Poi dopo aver mandato in frantumi il vetro dell'autovettura del padre si è posto alla guida dell'autovettura ingranando la retromarcia con l'intento di andare a urtare i mezzi dei carabinieri. Il suo tentativo è stato però reso vano dall'intervento di un militare colpito poi al braccio dallo sportello del mezzo in movimento. Il carabinieri ha riportato una contusione con una prognosi di 5 giorni. Il comune di Pescara punta a realizzare un nuovo depuratore. Tempi stretti per salvare la prossima stagione balneare e attenzione rivolta anche all'atteso abbattimento della diga foranea. Francesco Romana Testi Il comune di Pescara è in corsa per salvare la stagione balneare 2017 per farlo è servito l'intervento della regione obiettivo un nuovo depuratore che sostituisca quella ormai giunta al collasso e poi il tanto agognato abbattimento della diga foranea. Proprio questa mattina abbiamo fatto un ulteriore sopralluogo nelle aree dove è possibile realizzare le vasche di raccolta delle prime piogge in modo da garantire in caso di maltempo che non ci siano quegli sversamenti al fiume tale da richiedere l'applicazione dei divieti di balneazione. Stiamo correndo come non mai affrontando e scontrandoci con la burocrazia con i tempi lunghi di percorsi amministrativi che per forza di cose dobbiamo affrontare. La corsa per la prossima estate attende ancora alcune tappe fondamentali e già si pensa agli accorgimenti da avere. L'obiettivo è di realizzare un qualche cosa che consente all'attuale depuratore che ormai al collasso non ha più possibilità di ricezione di ulteriori refuli di poter garantire un accumulo di quelli che sono i refuli nell'immediatezza soprattutto quando ci sono le avversità atmosferiche che è evitare che ci sia il rilascio al fiume e al mare di inquinanti che possono compromettere la balneazione. Su questo stiamo lavorando così come stiamo lavorando sulla regione anche per verificare la modifica dei metodi e tecnologie per poter definire meglio quando, come applicare l'eventuale divieti di balneazione. Sarà una super perizia affidata all'ingegner Claudio Reginelli e la professoressa Paola Russo a chiarire le cause dell'esplosione della scuola materna di Pianodaccio del 13 ottobre del 2013 ad affidarla nel corso dell'udienza di questo pomeriggio il giudice Flavio Conciatori che ai due consulenti ha chiesto di rispondere ad un quesito particolarmente articolato. I due professionisti infatti dovranno non solo accertare la causa o l'insieme di cause alla base della deflagrazione ma anche quali obblighi manutentivi il capitolato d'appalto assegnava al CPL Concordia la società che aveva in gestione l'impianto termico della scuola se ci sono stati eventuali atteggiamenti negligenti della società ed anche se ci furono eventuali responsabilità da parte di altri soggetti perizia per la quale i consulenti del giudice si sono presi 90 giorni di tempo con la prossima udienza del processo fissata per il prossimo 27 di aprile. La provincia di Teramo si classifica come la più riciclona d'Abruzzo con una raccolta differenziata che cresce ma con dei costi di gestione più alti rispetto alla media regionale e la fotografia del sedicesimo rapporto rifiuti per l'anno 2015 presentato questa mattina nella sala del Consiglio Provinciale di Teramo. In provincia di Teramo cresce la raccolta differenziata e il territorio teramano diventa così il più riciclone d'Abruzzo. Sul podio c'è Torano seguita da Montefino, Montori e Tossicia e si registra anche una diminuzione complessiva della produzione di rifiuti in ambito provinciale. Le note dolenti parlano invece di costi alti del servizio rispetto alla media regionale e di mancanza di impianti di smaltimento sul territorio. È la provincia più virtuosa per quanto riguarda la differenzazione dei rifiuti e naturalmente è la provincia che soffre di più per assenza di impianti di trattamento. Non essendo autosufficiente i costi continuano ad essere alti a fronte di un'attività virtuosa dei nostri cittadini. E adesso con il CIRSU la situazione si aggrava? Il CIRSU è l'esempio di un'occasione mancata. Una vecchia programmazione aveva portato quell'impianto a poter ripartire e oggi noi abbiamo una società che è in procedura fallimentare a fronte di un invaso che potrebbe essere sufficiente non solo per la provincia di Teramo ma anche per altri territori e da lì trovare delle risorse per ammodernare gli impianti di trattamento. La provincia di Teramo cresce la differenziata ma i costi sono più alti che del resto della regione, ma perché? La provincia di Teramo è la prima provincia riciclona in Abruzzo e questo è un fatto positivo ed è una conferma. Poi i costi se sono più alti hanno diverse motivazioni. La prima senz'altro è la mancanza ancora di un'autosufficienza impiantistica a livello territoriale cosa che influisce sui costi di trasporto e i costi di trasporto chiaramente si riverberano sulle tariffe che si applicano ai cittadini. Dall'altra è una provincia che ha implementato più delle altri sistemi porta a porta di raccolta differenziata che sono sistemi più costosi se non vengono organizzati in maniera oculata. Nella programmazione futura sul trattamento dei rifiuti in provincia il Presidente di Sabatino auspica la nascita di un subambito provinciale che raccolga l'adessione dei 47 comuni per una gestione unica e condivisa che potrebbe avvantaggiare economicamente l'intero territorio. L'assessore comunale dell'Aquila Emanuela Iorio risponde ai consiglieri comunali che ieri in commissione hanno approvato all'unanimità la risoluzione per dire basta alla gestione dell'aeroporto dei parchi da parte della società Express. Il fallimento dei voli commerciali c'è stato e è oggettivo quindi non si vola all'aeroporto però l'aviazione generale è aperta quindi l'aeroporto è aperto ai voli generali e ai voli di protezione civile infatti durante purtroppo il sisma del 24 e poi del 30 di ottobre ha svolto appieno la sua funzione a funzioni di antincendio boschivo a funzioni di eliporto per il 118. Lo afferma l'assessore comunale dell'Aquila Emanuela Iorio all'indomani dell'approvazione in commissione all'unanimità di una risoluzione da portare in consiglio comunale che chiede di revocare la concessione ventennale dell'aeroporto dei parchi dell'Aquila affidata nel luglio 2012 alla società Express. Un affidamento a dir poco fallimentare hanno ribadito i consiglieri anche quelli di maggioranza si pensi che in base alla convenzione i passeggeri dovevano essere 180.000 nel 2016 e invece sono stati in tutta una decina nei voli inaugurali anche perché l'Enac ha revocato l'autorizzazione ai voli commerciali ad inizio 2015. Inoltre il Comune partecivile nel processo contro i vertici della Express per presunto interramento di rifiuti dall'altra parte però ha erogato finora 600.000 euro circa di finanziamenti. Il Comune, sarà sottolineato nella richiesta di revoca, non ha nominato poi il Comitato Etico e non ha proceduto alla revisione quadriennale della convenzione. La Iorio, messa ieri sul banco degli imputati, continua però a credere nella possibilità di rilanciare lo scalo con vocazione di protezione civile e con affidamento sempre e comunque alla Express. Noi stiamo cercando di trovare una strada che sia alternativa a quella commerciale quindi in primis aeroporto di protezione civile regionale e nazionale ma non solo come base operativa anche come base di formazione di volontariato e di protezione civile proprio come formazione del personale. dall'altro abbiamo ricevuto tante e siamo in costante contatto con tante realtà che ci chiedono il nostro aeroporto. E ora torniamo a Pescara, consiglio comunale animato questa mattina nel corso della seduta. I consiglieri di centrodestra e del Movimento 5 Stelle hanno invitato quelli della lista Teodoro a firmare il documento di sfiducia al sindaco tuttavia senza successo. Intanto Piernicola Teodoro rilancia annunciando che non si schiererà mai con l'opposizione. Centrodestra e Movimento 5 Stelle tentano il colpo gobbo al sindaco di Pescara presentando in gruppo il foglio di raccolta firme per la richiesta di dimissioni davanti al banco della lista Teodoro. Teodoro che ai primi di ottobre si era visto togliere dalla giunta alla propria rappresentante per un rimpasto. Rimpasto che fu condito da forti polemiche e dissenso con un intervento molto accorato di Piernicola Teodoro alla successiva seduta di consiglio comunale. Io faccio parte nel centro-sinistra, la lista Teodoro, Scegli Pescara fa parte nel centro-sinistra non certo fa parte né del centro-destra né della lista 5 Stelle e se permette io non prendo né ordini né altro né dalla Forza Italia né dal centro-destra ma in particolare da Forza Italia e tanto poco di meno dal Movimento 5 Stelle. La lista Teodoro non ha appoggiato l'iniziativa del centro-destro e non ha nessuna intenzione di farlo, al contrario porterà avanti il proprio lavoro certo di ottenere consensi da quei cittadini che da oltre un decennio gli hanno assicurato un posto in consiglio e fino a poco tempo fa in giunta. L'intervento fatto nel primo consiglio comunale è stato un intervento e l'ha fatto qui il sottoscritto, un intervento duro ma dove noi abbiamo cercato di spronare la giunta, di spronare il sindaco di spronare la maggioranza a lavorare sempre di più e questi risultati noi li abbiamo ottenuti perché noi abbiamo con i nostri emendamenti migliorato un DUP che è stato affermato, bloccato, modificato e poi approvato una limitata, un documento importante che è la documentazione unica di programmazione. L'obiettivo della lista Teodoro è questo, è quello di lavorare sempre per il bene della collettività, poi le chiacchiere, le istigazioni politiche gli attacchi politici lasciano il tempo che trovi. Restiamo a Pescara, l'associazione Pescara Mi Piace denuncia una incompiuta dell'amministrazione Alessandrini il rifacimento del manto stradale in via De Gasperi che non permette l'attraversamento pedonale. Qualcuno diceva il diavolo fa le pentole e non i coperchi e così il gruppo Pescara Mi Piace porta avanti una protesta sui lavori di rifacimento del manto stradale su via De Gasperi a Pescara. Attenzione puntata sui pedoni che tentano di attraversare la strada. Come sempre questa amministrazione sconclusionata fa le torte non mette poi la regolazione finale e spesso le fa anche male in questo caso parliamo di via De Gasperi una via per troppo tempo abbandonata a se stessa oggi che finalmente è stato rifatto oggi, quest'estate è stato rifatto il manto d'asfalto e da quest'estate ad oggi stiamo ancora senza segnale di gas stradale che significa una strada assai pericolosa perché è una strada molto larga e quindi aumenta il flusso di velocità delle automobili e quindi la rende praticamente impossibile per i pedoni ma anche pericolosa per gli automobilisti. Nella stessa giornata in cui l'ex sindaco di Pescara denuncia le incompiute del governo Alessandrini poco più in là, a Palazzo di Città i gruppi di centrodestra chiedono alla lista Teodoro di firmare la sfiducia nei confronti del primo cittadino sfiducia che per primi chiesero proprio i rappresentanti di Pescara Mi Piace un anno e mezzo fa. Una sfiducia che Pescara Mi Piace forse ha chiesto per prima i tempi dell'inquinamento del mare ma che purtroppo rimane senza alcun riscontro da parte di questa amministrazione che con arroganza va avanti e continua a danneggiare la nostra città. Noi chiediamo, oltre alla sfiducia che ormai chiediamo continuamente ma che non viene mai ascoltata quantomeno di porre rimedi a questo ulteriore scempio all'interno della nostra città. Ricordiamo che questa strada conduce a due ospedali al parcheggio l'area risulta e divide la città in due. Chiediamo che nel frattempo, mentre si facciano i lavori per la segnaletica orizzontale almeno vengono messi un presidio di pulizia municipale per renderla un pochettino più sicura perché vediamo alle nostre spalle che è una strada assai pericolosa. L'Associazione Amici del Gran Sasso d'Italia si è ritrovata a Terramo per discutere sul futuro della montagna abruzzese e delle iniziative per il rilancio sociale e turistico delle aree interne. Alfredo Primante Tornare a valorizzare la montagna e del Gran Sasso in particolare guardando le migliori esperienze del nord Italia ed europee per offrire nuove opportunità occupazionali ai giovani e questo l'obiettivo della neonata associazione Agli Amici del Gran Sasso d'Italia capitanata da Walter Mazzitti il cui primo atto è stato un convegno organizzato a Terramo in cui analizzare quale possa essere il futuro della montagna abruzzese. Una comunità appunto di gente che ama la montagna che in futuro, che da subito, inizierà a lavorare per cercare di creare nuovi progetti e il nostro sguardo prioritariamente è rivolto ai giovani e al lavoro ai giovani che dovranno pensare che c'è una via d'uscita in una situazione così drammatica come quella che viviamo da un punto di vista economico ed è la nostra montagna, basta alzare lo sguardo, guardare verso il nord del paese guardare cosa hanno realizzato nel Trentino Alto Adice, cosa hanno realizzato in Val d'Aosta solo ed esclusivamente utilizzando e sfruttando in maniera corretta, ecocompatibile la montagna è quello che non abbiamo fatto mai noi in tutti questi decenni insomma, la montagna è il Gran Sasso d'Italia il massiccio del Gran Sasso d'Italia deve diventare il nostro totem identitario Il Natale Terramano parte oggi e per un mese sarà un susseguirsi di eventi musicali, culturali e religiosi che riscalderanno il cuore dei cittadini tra le novità più attese il tradizionale presepe vivente di Miano che quest'anno eccezionalmente sarà allestito in città nella suggestiva location del Teatro Romano Un mese di eventi a Teramo dal 13 dicembre sino all'Epifania per riscaldare una città infreddolita dagli ultimi avvenimenti legati al sisma quasi 3.000 cittadini fuori dalle proprie abitazioni che hanno bisogno di momenti di aggregazione per tornare a sentirsi parte di una comunità Il Natale Terramano, organizzato dall'amministrazione comunale ha un titolo che è davvero tutto un programma, insieme con il cuore La chicca di quest'anno sarà il presepe vivente di Miano allestito del 29 dicembre nel Teatro Romano Nona edizione del presepe di Miano è talmente bello che il sindaco di Teramo ha detto beh, quest'anno lo facciamo in città Come vi sentite? Emozionati? Sì, emozionati e con tanta responsabilità Speriamo, soprattutto con responsabilità perché noi ci siamo cimentati a farli in un piccolo borgo tra di noi quindi adesso portarla a Teramo ci sentiamo un po' più responsabili Renderete un quartiere di Teramo un borgo vivente Chi saranno le comparse? Allora, le comparse diciamo che sono sempre quelle di Miano abbiamo richiamato tutte le comparse 80-90% sono quelle di Miano sono le comparse che ogni anno ci affiancano ci affiancano perché non è facile stare lì 2-3 ore e seguire le cose che noi diciamo di fare e diciamo che la maggior parte hanno aderito hanno aderito tutti I costumi? Allora, i costumi, quelli li abbiamo, li abbiamo fatti noi praticamente per i costumi è stato così svolta che un gruppo di sarte, sarte tra parentesi di persone che sapevano fare questa cosa abbiamo ripulito quasi tutte le nostre soffitte di stoffe vecchie perché lì ci servivano stoffe vecchie quindi di buon grado, stoffe vecchie, bottoni vecchie e abbiamo realizzato questi vestiti La maggior parte degli eventi che animerà la città di Teramo per queste feste natalizie si svolgerà a partire dal pomeriggio in Piazza Martiri dove già da domani sarà allestito un palco che ospiterà musica e spettacolo Apriamo la pagina dello sport e parliamo di Serie A e di Pescara che prosegue la preparazione del match di domenica prossima alle ore 15 contro il Bologna gara particolarmente delicata vista la situazione di classifica dei Biancazzurri e ieri nel corso della trasmissione Replay è intervenuto il presidente Sebastiani che ha spiegato perché ha confermato il tecnico Massimo Oddo Oddo resta al suo posto perché la squadra lo segue perché lui sta lavorando molto bene e perché abbiamo fatto un progetto con quest'allenatore e se io non sono abituato ad abusare della parola progetto come fanno tanti nel calcio per me un progetto ha un inizio e ha una fine e va monitorato durante il corso di questo progetto se poi invece qualcun altro parla di progetto e poi ha la prima difficoltà manda a casa tutti e questi non sono progetti che possono fare il caso nostro quando tu non vinci ancora una partita è chiaro che il problema mentale è importante perché magari ti rendi conto che forse sei capace di vincere in Serie A e già può essere un blocco, un limite però secondo me questa squadra ha dimostrato già delle prime partite che io non dico nulla di strano se dico che senza magari quel, purtroppo, quell'errore di coda contro il Napoli avremmo portato a casa i tre punti non dico nulla di strano se con l'Inter magari facevamo anche gol in più potevamo portare a casa i tre punti non dico nulla di strano anche se ce l'hanno dato a tavolino che a Sassuolo avremmo meritato ma senza ombri di dubbio la vittoria abbiamo fatto tante altre belle partite vedi Milano, vedi Roma stessa con la Roma quindi non è una squadra che adesso è diventata un branco di incapaci sicuramente c'è un problema in questo momento ci sono dei limiti c'è un problema mentale ma come diceva l'avvocato prima da queste cose si esce fuori con la grande coesione con la grande compattezza di tutti c'è questa voglia da parte di tutti di uscire fuori da questo trend negativo e mi auguro che arrivi prima possibile certo abbiamo queste due partite che sono due finali si usa dire così ma per noi lo sono realmente investigatori a lavoro per accertare eventuali responsabilità dopo la contestazione di un centinaio di ultra nei confronti del Pescara avvenuta ieri sera all'esterno del porto turistico dove si stava svolgendo la tradizionale cena di Natale del delfino Pescara nelle prossime ore gli agenti della Digos visioneranno le immagini delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza che serviranno per ricostruire i fatti considerando che quella andata in scena ieri sera era una manifestazione non autorizzata eventuali responsabilità potrebbero portare all'emissione di Daspo e ora scendiamo in Lega Pro e parliamo di Teramo oggi è ripresa degli allenamenti per i biancorossi di Lamberto Zauli in vista della gara di domenica prossima ore 14.30 al Bonolis contro la Feralpi Salò gara valida per l'ultima giornata di andata del Girone B c'è la designazione arbitrale il match sarà diretto da Vincenzo Fiorini della sezione di Frosinone oggi ha parlato il baby attaccante Fratangelo ascoltiamolo credevo che non mi facesse giocare titolare però quando appunto me l'ha detto ero contento ma anche preoccupato nel senso che se ti faccio male però ho dato il massimo poi ho corso veramente tanto ho provato a ringraziarlo in un certo modo in campo dove mi mette il mister gioco poi di solito la prima punta non la faccio quasi mai mi trovo un po' meglio esterno anche perché prima punta dovrei proteggere più palla con i difensori un po' corpo a corpo quindi mi trovo meglio esterno oppure seconda punta ho fatto degli errori al primo tempo potevo tirare prima avrei avuto delle ottime occasioni per andare in gol purtroppo non le ho sfruttate al meglio e non lo so speriamo che segnerò presto e in serie D si sta per concludere la vicenda legata alla Chieti Calcio entro venerdì i giocatori della squadra saranno svincolati e domenica prossima la squadra non scenderà in campo contro l'Alfonsine alla quarta rinuncia la società sarà esclusa dal campionato e radiata si avvicina a capolinea la vicenda Chieti è estremamente probabile che la gara di domenica prossima tra Chieti e Alfonsine valida per l'ultima giornata di andata non si disputi due giorni fa la squadra si è presentata al Galileo Mancini di Castelfidardo infarcita di giovani e soprattutto i giocatori e il tecnico Mariani hanno raggiunto il centro marchigiano con mezzi privati e pagandosi la trasferta la gara è stata persa come era inevitabile con un pesante parziale di 5 a 0 ma il pomeriggio marchigiano ha ratificato uno stato di fatto intorno a quel che resta della squadra non c'è più nulla con un presidente Giacomini verso le dimissioni ma comunque già disimpegnato e mentre nei prossimi giorni si attende alla sentenza del giudice che si pronuncerà sulle istanze di fallimento presentate a carico della Chieti Calcio l'allenatore Mariani che si è sobbarcato a questa situazione sul campo e che ci ha sempre messo la faccia davanti a Telecamere e Tacquini ha fatto sapere che entro venerdì 16 dicembre alla chiusura delle liste tutti i giocatori di Chieti saranno svincolati e quindi la squadra non giocherà domenica prossima formalmente la Chieti Calcio subirà un punto di penalizzazione per ogni gara non disputata e alla quarta rinuncia a scendere in campo la squadra sarà esclusa dal campionato di Serie D e la società sarà radiata una fine ingloriosa ma che sembra inevitabile per quanto visto in questi mesi in attesa dello sviluppo di questi eventi c'è già una squadra pronta a raccogliere l'eredità del calcio cittadino la Chieti FC che sta dominando il girone B di promozione anche se restano da superare alcuni ostacoli legati al campanile visto che questo nuovo progetto calcistico trae origine dalla squadra del Torre Alex di Cepagatti e su questa vicenda è giunta in serata una nota del primo cittadino di Chieti Umberto Di Primio è un grande dolore vedere finire la storia del Chieti Calcio in questo modo è quanto dichiara appunto il sindaco di Chieti a margine della vergognosa decisione assunta da Giacomini il patron della Chieti Calcio dimissionario si legge sempre nella nota decisione appunto di non far più giocare la squadra veder ritirare i calciatori è una ferita per noi tutti per l'intera comunità e per la città ha proseguito il sindaco ma allo stesso tempo ci solleva non dover più assistere alle figuracce causate da una dirigenza scelerata e barbina che ha ridotto in queste condizioni la squadra storia, orgoglio e bandiera della nostra città nell'ultimo mese ho inutilmente cercato di incontrare Giacomini per trovare così come suggeritomi anche dai tifosi una possibile soluzione alla crisi di risultati e societaria del Chieti ha evidenziato il primo cittadino ora si tratta di ripartire da capo di rimboccarsi le maniche di trovare le forze migliori quelle più pulite perché si possa ricostruire intorno al simbolo della Chieti Calcio e quindi intorno alla città una nuova e gloriosa storia situazione del tutto diversa invece sempre nello stesso girone ovvero il girone F di Serie D per il San Nicolò che è primo in classifica e che in giornata ha annunciato l'acquisto di un nuovo giocatore si tratta eccolo qui nella foto di Daniele Bosi esterno d'attacco e trequartista all'occorrenza classe 91 arriva dal girone H di Serie D dal città di Ciampino dove ha collezionato in stagione 13 presenze due reti e 6 assist è cresciuto nel settore giovanile della Lazio e ha sempre militato in squadre di Serie D della sua regione di appartenenza prende il posto del trequartista ed esterno d'attacco Giordano Napolano la cui stagione è sostanzialmente finita per via di un grave infortunio al ginocchio e ora lasciamo il calcio parliamo di pugilato Martina Labarbera 25 anni di Pescara si è laureata campionessa italiana assoluta per la categoria degli 81 kg a Bergamo l'atleta abruzzese tesserata con la pugilistica di Giacomo di Montesilvano ha sconfitto in finale Giada Epifani della box tricolore dopo essere stata per due anni vice campionessa italiana la Barbera corona il suo sogno tricolore e porta il titolo in Abruzzo ed ora un ultimo servizio e parliamo di basket di Serie B seconda sconfitta in campionato per la Globo Info Service Campli mai in partita e battuta 82 a 61 a Sansevero solitamente è Campli a partire forte e non lasciare scampo agli avversari ma questa volta la Globo Info Service subisce troppo in avvio e non riesce a risalire la china a Sansevero la squadra di Piero Millina incappa nella seconda serata storta stagionale e non a caso incassa il secondo stop in campionato il match si presentava già difficile per la forza dei pugliesi e l'assenza del Farnese Serroni ma è diventato subito insostenibile a causa di un approccio diametralmente opposto dei due quintetti il 26 a 12 del primo quarto e il 25 a 10 del secondo quarto hanno configurato un meno 29 51 a 22 più che eloquente partita senza storie con i farnesi che sono stati dominati a rimbalzo 39 a 25 e che hanno tirato molto male da oltre l'arco 3 su 21 dati statistici che però risultano quasi insignificanti alla luce della differenza di intensità messa in campo solo nell'ultimo quarto a gara abbondantemente chiusa la Globo Info Service è risalita almeno 21 82 a 61 che è anche il risultato finale e alcuni giocatori hanno messo parzialmente a posto gli score personali coi 15 di Gatti ma 1 su 7 da 3 e i 13 punti di Bottioni con 6 assist e Serafini per Sansevero in doppia cifra Morgillo 18 e 8 rimbalzi Ciri Beni 15 e Torresi 14 bene anche Di Marco con 9 punti e ben 15 assist la Globo Info Service agguantata da Sansevero e Bisceglie al secondo posto ha però l'opportunità di rifarsi domenica al Pala Borgognoni arriva la capolista poderosa Montegranaro poi ci sarà il recupero del 22 dicembre con Senigallia con una doppia vittoria sfruttando il fattore campo i farnesi centrerebbero il primo posto ma soprattutto costruirebbero una piccola ipoteca per la qualificazione alle finals di Coppa Italia ma sarà importante rialzarsi subito e cancellare quest'ultima prova era questo l'ultimo servizio del TG6 che tornerà domani con la prima edizione delle ore 14 grazie per l'attenzione e buonanotte grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione